A qualche settimana di distanza torniamo sul luogo del delitto, vediamo insieme ancora Honor 9 Quello che vedete nelle mie mani è secondo me uno dei prodotti più interessanti del momento Si chiama Honor 9, arriva dalla sussidiaria di Huawei che presenta prodotti che una volta erano semplicemente low cost e magari non bellissimi da vedere Adesso ha fatto un salto secondo me in avanti anche rispetto al design Vediamo un attimo da vicino questo Honor 9 che ho usato nelle ultime settimane approfondendone un po' la conoscenza Inevitabile richiamare le forme di Huawei P10 Però attenzione perché per alcuni aspetti secondo me questo è forse quasi un prodotto più accattivante Allora la parte posteriore richiama un po' forse Xiaomi Mi6 Mi6 richiama un po' se volete anche le forme del Galaxy S7 di un anno fa Con questa parte molto arrotondata, molto gradevole da vedere Un lato pulitissimo con solo il cassettino per due schede nano sim oppure per una nano sim con una micro SD Questo lato con il pulsante di accensione e con il volume rocker La parte superiore con il sensore infrarossi Io ringrazio sempre i produttori quando mettono questo dettaglio perché mi diverto un sacco a spegnere le televisioni nei luoghi pubblici Soprattutto quando magari durante il derby Roma-Lazio qualcuno sta tirando un calcio di rigore Poi c'è il bilanciamento del rumore nella parte inferiore l'attacco USB Type-C È rimasto l'attacco per le cuffie e c'è anche l'altoparlante nella parte inferiore In questo punto è stato spostato il sensore delle impronte digitali che fino ad un anno fa era nella parte posteriore Anzi a proposito di un anno fa Diamo un occhio anche a che cosa cambia esattamente nel design di questi due telefoni Perché essenzialmente vedete questo è Honor 8, questo è Honor 9 Vedete non c'è più il marchio Honor nella parte frontale Viene riproposto invece il marchio nella parte posteriore Essenzialmente rimane identica la configurazione con la doppia fotocamera senza alcun tipo di sporgenza Che secondo me è una soluzione molto molto bella anche dal punto di vista estetico Diciamo che queste forme erano molto più vicine a quelle di iPhone Un anno fa cambia invece la soluzione del coating Quindi diciamo la finitura e ci si avvicina di più come detto a Xiaomi E anche al mondo forse di Galaxy S7 Display sempre con un'ottima visibilità, un'ottima leggibilità E secondo me tra l'altro anche guardate se vediamo un angolo tutto sommato di lettura Adesso non vorrei farvi impazzire con la visione e con la messa a fuoco Però essenzialmente un angolo di lettura sempre comunque molto esteso Honor 9 si caratterizza per il processore il Kirin 960 Prodotto da Huawei, adottato anche da Huawei P10 Il che vuol dire un telefono velocissimo dal punto di vista della reattività Completo, è una sorta di Fiat Uno dei telefonini Cioè non vi darà mai alcun tipo di incertezza La batteria è da 3200 mAh e tutto sommato si comporta bene Vedete anche la velocità del telefono in tutte le condizioni Secondo me è sempre ottima Adesso non state a vedere quanto ci impiega Darvi la risoluzione della pagina Essenzialmente perché sono collegato ad una rete Wi-Fi che va abbastanza a vapore Però insomma per il resto una volta che la pagina è caricata correttamente Attendiamo insomma che finisca il download della pagina Veramente il telefono si comporta sempre nel migliore dei modi Veloce, reattivo, piacevole da utilizzare Anche la fotocamera che è diventata Che spavento, scusatemi Ho visto una cosa brutta nella fotocamera Anche la fotocamera che è diventata da 12 megapixel Per quanto riguarda il sensore a colori Da 20 megapixel per il sensore bianco e nero Riprende qualche cosa delle soluzioni di Huawei P10 Pur non avendo il marchio Laika Ad esempio questa è la modalità Portrait Che potete attivare e disattivare all'occorrenza Che in realtà viene chiamata modalità Laika sul P10 Poi avete la possibilità anche di modificare Proprio la larghezza della ripresa In questo modo vedete con l'apertura Delle immagini che viene modificata E poi come sul modello P10 Avete la possibilità di scegliere molte modalità di ripresa Con uno swipe invece dalla parte opposta Invece avete le vere e proprie voci Per la gestione del vostro telefono Ecco un dettaglio importante Avete visto che io ho usato essenzialmente i tasti a schermo Cioè non ci sono, scusate, i tasti fisici sul telefono Volendo questi stessi comandi li potete utilizzare Semplicemente sul sensore delle impronte digitali È una delle tantissime soluzioni che avete In quella che viene detta la cosiddetta Assistenza intelligente del telefono Questa è una delle tante modalità Ad esempio il controllo del movimento Potete portando all'orecchio il telefono Rispondere ad una chiamata O chiamare un numero visualizzato su un messaggio sms Potete alzare il telefono per togliere la suoneria Insomma tante soluzioni che abbiamo già visti anche in un altro telefono Anche in questo c'è il famoso pulsante flottante Che potete utilizzare in qualunque momento Per richiamare i tasti funzione Io devo dire che non ne ho mai capito l'utilità Però insomma Huawei lo ripropone spesso e volentieri Avete anche la possibilità di scegliere il tipo di schermata home Con il tasto, con il cassettino delle applicazioni Oppure con tutte le applicazioni su un solo livello Come per iPhone Quindi potete mettere questo tasto oppure toglierlo Questo fa sembrare il telefono un po' vecchiotto Perché ormai tutti i telefoni con Android 7 Hanno invece uno swipe dal basso verso l'alto Però guardate che nel complesso questo telefono si comporta molto bene Vorrei farvi sentire anche l'audio del telefono In realtà potevo cercare un'applicazione anche in un modo diverso Perché dalla schermata base con un swipe verso il basso Si attiva il sistema di ricerca Quindi potete cercare anche in quel modo dentro il telefono Io vi mostro Radio No.1 come al solito La casa di Mr. Gadget Per sentire l'audio con cui viene riprodotta la musica Adesso qualche secondo come al solito per l'apertura a vapore Sentite che l'emissione del suono è tutta sulla parte inferiore C'è un'ottima pressione del volume E tra l'altro c'è da dire che Huawei Honor ha spinto molto Proprio sull'aspetto della qualità del suono Così come viene riprodotto E anche sulla capacità di cogliere immagini Quando c'è molto buio Ci sono due versioni di questo telefono Con 4 o con 6 giga di RAM Dipende dalla quantità di memoria che contiene il telefono Abbiamo visto quindi 12 e 20 megapixel Per la fotocamera posteriore A seconda del sensore in bianco e nero a colori 8 megapixel per la fotocamera frontale Vi ho già detto 3200 mAh di batteria È un telefono veramente solido Forse un po' incline alle righe Ma attenzione state lì Perché io vado da questa parte E vi mostro quella che è la soluzione Che trovate già nella confezione di Honor 9 Cioè una cover completamente trasparente Che vi dà la possibilità di proteggere il telefono Tutto sommato senza perdere la bellezza dello stesso Che sta in questi riflessi molto molto gradevoli da vedere Però guardate cosa è successo sotto Forse non le vedete dalla fotocamera Ma insomma le ditate Che altrimenti si imprimono sulla superficie del telefono Ci sono molte promozioni Per cui avere questo telefono con un prezzo speciale In Italia viene distribuito anche nei negozi Grazie a Wind e a 3 Quindi non più solo online Devo dire che a me piace molto Tra i telefoni veramente belli di quest'anno C'è senza dubbio anche Honor 9 Grazie a tutti Grazie a tutti